Una storia semplice di Leonardo Sciascia Ecco, si tratta dell'ultimo romanzo di Leonardo Sciascia Ha scritto Leonardo Sciascia parecchi testi, ma non solamente di narrativa Lui è stato infatti non solo un romanziere, ma anche uno scrittore a 360 gradi saggista, giornalista, politico di più partiti, radicale, socialista per esempio lo ricordo soprattutto, poeta, drammaturgo, insegnante di scuola elementare spirito libero e anticonformista, lucidissimo e impietoso critico del nostro tempo è della Sicilia, è dei poteri forti Sciascia è una delle più grandi figure del novecento italiano ed europeo notevole è stato il suo impegno nel combattere la mafia attraverso i suoi scritti e nel denunciare la corruzione e l'omertà dei politici in molti casi politici, ahimè, sotto il diretto controllo dei mafiosi Ha scritto tanto Leonardo Sciascia, abbiamo letto insieme il giorno della civetta e a ciascuno il suo ma ha scritto anche testi sulla mafia, saggi poi ha scritto la scomparsa di Majorana quindi sui ragazzi di Panisperna Candido, vero, un sogno fatto in Sicilia che ci fa capire subito la sua impronta illuminista, neo-illuminista la strega e il capitano, il cavaliere alla morte tanti testi, alcuni li leggeremo ancora, non vi preoccupate nei prossimi mesi e anni le parrocchie di Regalpietra, la fermo oro un testo che fece molto discutere ecco, che cosa successe nel 1989? Sciascia che era malato, era in dialisi se non sbaglio scriveva questo romanzo lo scrisse e lo terminò appena in tempo perché poi morì e quindi questo romanzo uscì fu pubblicato proprio quando lui morì in quel 1989 è ispirato ad un fatto realmente avvenuto il furto della natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi di Michelangelo Merisi alias Caravaggio trafugato la notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo e mai più recuperato da questo libro fu tratto un film nel 1991, quindi due anni dopo non molto tempo dopo insomma, ecco questo bellissimo quadro di cui noi adesso possiamo solo avere delle riproduzioni delle fotografie datate restaurate le fotografie perché il quadro è stato rubato e non è stato più ritrovato pensate che fa parte di quella dozzina, non di più di quadri rubati più di maggior valore insomma al mondo è fra i dieci quadri di maggior valore che la collettività l'umanità ha perso e che si trova chissà dove chissà in quale stanza di privilegiato che ha potuto permettersi di comprare al mercato nero ovviamente questo quadro bene, ovviamente è una sorta di variazione sul tema nel senso che abbiamo già visto nel giorno della civetta e a ciascuno il suo il tema dell'illegalità il tema della malavita e adesso però in generale ovviamente in quei due romanzi si parlava in generale di mafia e spesso di appalti invece qui abbiamo come dire un reato diverso chiamiamolo così il furto di un quadro di un quadro famoso ecco non fatevi ingannare dal titolo la storia è tutt'altro che semplice lo vedremo anche nella trama ovviamente anche perché per via del genere letterario variazione sul tema della corruzione vi dicevo e ho scritto nella slide sul tema del malaffare dell'impotenza di fronte al potere mafioso che riesce a trovare agganci in questo caso nelle istituzioni statali le forze dell'ordine e religiose il prete lui che comunque lo sappiamo un anticlericale lo fa capire chiaramente anche in questo testo sulla falsariga di quanto abbiamo già riscontrato negli altri due gialli non gialli letti in precedenza infatti la caratteristica di tutti questi tre libri poi leggeremo altri libri insomma di Sciascia ma questi tre libri hanno qualcosa in comune e quel qualcosa in comune è un senso di amarezza di sconforto perché la giustizia non trionfa oppure trionfa molto molto parzialmente oppure trionfa temporaneamente ma alla lunga diciamo che la vince il malaffare purtroppo è una prospettiva amara quella di Leonardo Sciascia ma ahimè molto realista magari ecco come dire Sciascia magari se fosse vivo adesso avrebbe un'idea diversa però insomma voi lo sapete no? tutta la polemica che c'è stata anche con il giudice Falcone Sciascia non era per niente d'accordo col giudice Falcone ha fatto un articolo sconvolgente da un certo punto di vista in cui ha messo in discussione tutto il lavoro del pool antimafia e soprattutto del giudice Falcone di quelli che vanno a cercare poi le grandi nomine diciamo super procuratore super esperto ministeriale statale eccetera insomma vi sto dicendo di quelle cose ma lui comunque tutte le questioni che toccava Leonardo Sciascia prendeva sempre delle posizioni come dire divergenti ecco sicuramente questo però me lo permetterete non sempre come dire condivisibili anche perché certe volte proprio la realtà dei fatti ha dimostrato che le cose non stavano come diceva lui questo è successo a Sciascia è successo a Camilla Cederna è successo a tanti altri va bene allora adesso è arrivato il momento di leggere una storia semplice di Leonardo Sciascia cominciamo meno tre meno due meno uno via la telefonata arrivò alle 9 e 37 della sera del 18 marzo sabato vigilia della rutilante rombante festa che la città dedicava a San Giuseppe Falegname 19 marzo ovviamente festa di San Giuseppe e al Falegname appunto erano offerti i roghi di mobili vecchi che quella sera si accendevano nei quartieri popolari quasi promessa ai falegnami ancora in esercizio ormai pochi di un lavoro che non sarebbe mancato gli uffici erano più delle altre sere a quell'ora quasi deserti anche se illuminati l'illuminazione serale e notturna degli uffici di polizia tacitamente prescritta per dare impressione ai cittadini che in quegli uffici sempre sulla loro sicurezza si vegliava si beh certo uffici non stiamo parlando ovviamente di uffici che ne so di impiegati o cose del genere stiamo parlando delle forze dell'ordine che comunque a turno sono sempre vigili e presenti devono essere sempre vigili e presenti ecco noterete voi che potete vedere la slide che da adesso in poi ci saranno tanti fotogrammi di un film è il film diretto dal regista emidio greco ah è un semplice telefonista così viene presentato da leonardo sciascia il telefonista notò allora il nome della persona che telefonava giorgio roccella aveva una voce educata calma sua dente come tutti i folli pensò al telefonista chiedeva infatti il signor roccella del questore una follia specialmente a quell'ora è in quella particolare serata cioè la vigilia della festa di San Giuseppe il telefonista si sforzò allo stesso tono ma riuscendo a una caricaturale imitazione resa più scoperta dalla freddura con cui rispose ma il questore non è mai in questura quest'ora freddura che in quegli uffici abitualmente correva sulle frequenti assenze del questore e aggiunse le passo l'ufficio del commissario col gusto di far dispetto al commissario che certo stava in quel momento per lasciare l'ufficio il commissario si stava infatti infilando il cappotto prese il telefono il brigadiere che aveva tavolo ad angolo con quello del commissario ascoltò cercò sul tavolo una matita un pezzo di carta e mentre scriveva rispondeva che sì sarebbero andati al più presto possibile ma appena possibile così collocando la possibilità in modo da non illudere sulla prestezza cioè sulla rapidità cioè il brigadiere il commissario basta se ne sta andando ecco il brigadiere dice sì verremo appena possibile ma facendo capire che magari non sarebbe stato proprio quella sera chi era domandò il commissario un tale che dice da farci vedere urgentemente una cosa che si è trovata in casa un cadavere scherzò il commissario no ha detto proprio una cosa una cosa e come si chiama questo tale il brigadiere prese il pezzo di carta su cui aveva scritto nome e indirizzo LS Giorgio Roccella eccolo qui intanto il brigadiere nel film appunto di Emidio Greco è impersonato da Richi Tognazzi cioè il figlio di Ugo Tognazzi il brigadiere dicevamo prese il pezzo di carta su cui aveva scritto nome e indirizzo LS Giorgio Roccella con trada a Cotugno dal bivio per Monte Rosso strada a destra quattro chilometri quindici da qui il commissario tornò dalla porta al tavolo del brigadiere prese quel pezzo di carta lo lesse quasi credesse di trovarvi qualcosa di più di quel che il brigadiere aveva detto e disse non è possibile che cosa domandò il brigadiere questo Roccella disse il commissario è un diplomatico console ambasciatore non so dove non viene qui da anni chiusa la casa di città abbandonata e quasi in rovina quella di campagna incontrata Cotugno appunto quella che si vede dalla strada in alto che sembra un fortino una vecchia masseria disse il brigadiere ci sono passato sotto tante volte e poi continua il commissario ecco come vedete in questa slide il commissario fu interpretato nel 1991 da Ennio Fantastichini uno straordinario attore spesso ingaggiato così per ruoli di secondo protagonista per i quali comunque ha avuto anche dei riconoscimenti perché era un attore straordinario nel 2018 ci ha lasciato Ennio Fantastichini ecco dicevamo o meglio dice il commissario dentro il recinto per cui pare una masseria c'è un villino molto grazioso o almeno c'era grande famiglia quella dei Roccella ma ora ridotta a questo console ambasciatore che sia non credevo nemmeno che fosse ancora vivo da tanto che non si vede se vuole disse il brigadiere vado a controllare ma no sono sicuro che si tratta di uno scherzo domani magari se hai tempo e voglia vai a dare un'occhiata per quanto mi riguarda qualunque cosa accada domani non mi cercate vado a festeggiare San Giuseppe da un mio amico in campagna e così si chiude diciamo il primo capitolo ecco passiamo alla giornata successiva alla mattinata successiva e questa volta riassumiamo un po' secondo le indicazioni consigli del commissario il brigadiere aspetta il giorno successivo ad andare a controllare che cosa voleva questo signor Roccella e cosa succede? come vediamo in questo fotogramma succede che trova il signor Roccella morto e la situazione è molto particolare molto strana perché la pistola è per terra e si trova un foglio un foglio davanti su cui è scritto ho trovato un eureka chiamiamone così con un punto ora tutta quanta la situazione può essere interpretata in due modi cioè apparentemente sembra proprio la scena di un suicidio sapete come quando uno per esempio scrive una frase ad effetto e dice insomma lascio questa vita così deludente e amara vi lascio con affetto eccetera non so frasi di questo genere ecco e poi non si trova magari accasciato con questa pistola che tra l'altro diciamo che subito gli investigatori capiscono che effettivamente è una sua pistola tra l'altro una pistola anche piuttosto vecchia cioè che risaleva addirittura alla prima guerra mondiale un ferraccio chiamiamolo così di di pistola insomma osservano tutta quanta la scena e alcuni degli investigatori pensano oh c'è il mio amico Simone Paoleschi che intanto mi ha scritto un messaggio sapete che Simone è il mio grande diciamo amico che mi segue da tanto tempo e mi dice su Instagram non si vede ok e su YouTube non c'è l'audio oh maledizione purtroppo è vero che non ci sia l'audio su YouTube ahimè è una cosa che sta avvenendo purtroppo abbastanza spesso e questo mi spiace tantissimo vado subito adesso a cercare di come dire riaccendere il microfono o meglio l'avevo acceso ed era anche penso acceso all'inizio ma poi si vede che si è creato qualche problema allora vediamo un po' Samsung prova 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 microfono no 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 il microfono non non dà segni di vita anche se è stato opportunamente collegato eh e all'inizio sembrava proprio funzionare adesso non dà segni di vita proviamo a usare i microfoni del computer allora a questo punto anche se sono sicuramente meno performanti però almeno gli amici di YouTube possono sentire scusatemi amici di YouTube non so perché cosa che era già successo anche altre volte il microfono si è spento l'audio di nuovo l'audio è andato via adesso l'audio ritorna adesso l'audio è tornato ecco oh maledizione veramente mi spiace tantissimo per queste audio ritornato ecco intanto volevo spiegare in buona sostanza io cerco sempre di utilizzare questo microfono che è un microfono più performante rispetto al microfono del computer insomma del dispositivo ecco che è un microfono meno performante però ovviamente visto che l'altro non so per quale motivo si è spento da solo adesso lo prendiamo questo qua e lo buttiamo via perché tanto stiamo usando l'audio quindi non ci serve proprio più ecco allora ricapitoliamo su youtube adesso ciao valentina intanto ciao carissima su youtube si vede e si sente in qualche modo magari non così perfetto e raffinato però si sente invece su su instagram penso che si veda ho qui due grandi docenti che sono la simona paridi che saluto affettuosamente e la prof bacci che saluto anche lei insieme a tutti gli altri amici di instagram roberta jafrati e anche stefania sortino bene e mariano rosaria non so come mai non riesce a collegarsi su instagram simone pauleschi spero che ci riprovi spero che si possa continuare adesso con questa nostra lettura o meglio riassunto della della trama di una storia semplice abbiamo detto che in buona sostanza il sabato sera un certo giorgio roccella telefona alla stazione di polizia dice che ha trovato qualcosa ritornato probabilmente da anni assente in una masseria abbastanza isolata stiamo parlando ovviamente della sicilia dice che ha trovato qualcosa ma non ha detto cosa né al telefonista né al brigadiere di polizia e poi effettivamente quando il brigadiere arriva lì a casa sua vede che stava scrivendo ho trovato ma poi dopo ho trovato si è fermato ha messo un punto capite è una cosa che fa molto insospettire il brigadiere infatti proprio questo fatto che abbia scritto ho trovato senza finire la frase anzi mettendoci un punto poi il fatto che la pistola fosse per terra cosa molto strana perché come vedete la mano destra del giorgio roccella era sul tavolo come avrebbe potuto che ne so suicidarsi e poi gettare la pistola per terra visto che il colpo alla testa deve essere stato deve averlo freddato in maniera molto molto rapida e veloce la penna stilografica utilizzata per il messaggio è chiusa invece che aperta se uno scrive un messaggio mentre si sta suicidando che ne so non si mette poi a chiudere la penna se si suicida non si mette a chiudere la penna e allora il brigadiere inizia a pensare che sia un omicidio pensa che l'uomo dopo aver telefonato in questura effettivamente si sia trovato di fronte non a un poliziotto perché lui aveva chiamato la questura perché venisse lì un poliziotto ma si sia trovato di fronte al suo assassino e quindi questo assassino poi abbia inscenato malamente però ecco questo suicidio al quale però non ha abboccato il brigadiere stava iniziando a scrivere quello che aveva trovato ho trovato poi ha sentito bussare alla porta ha aperto nella convinzione che fosse la polizia ma si è trovato davanti l'assassino la penna chiusa dimostrerebbe che l'assassino aveva cercato di far passare l'omicidio per suicidio e così il brigadiere continua insieme agli altri insomma puntati suoi sottomessi a ispezionare perquisire la casa la casa è apparentemente abbandonata però tutta una serie di elementi fa capire che c'era stato qualcuno non solo Giorgio Roccella ma qualcun altro e non solo l'ultimo giorno ma negli ultimi tempi da un po' di tempo c'era qualcuno che frequentava quella casa a un certo punto arriva il questore quel famoso questore che poi si dice insomma in questore non c'è mai in questura quest'ora è interpretato come vedete qui da Massimo D'Apporto all'inizio il questore porta avanti la tesi del suicidio gli sembra proprio un suicidio è uno di quelli che insomma si metta la scrivania con una pistola in mano con la sua pistola in mano appunto non ci sono infatti tracce di altre impronte digitali e e si tira un colpo scrivendo qualcosa no? ma come abbiamo già fatto capire è più probabile la tesi del brigadiere ecco arriva il questore poi dopo il questore arriva anche il procuratore della repubblica come vedete ah no questo è il colonnello dei carabinieri ecco tra l'altro qui abbiamo già una sorta di riflessione sulle forze dell'ordine già un po' implicitamente possiamo dire che già non ci hanno fatto una bella figura sin dall'inizio queste forze dell'ordine un commissario che non risponde al telefono perché è finito il suo turno e vuole andare via presto non vuole rispondere al telefono e poi non si preoccupa neanche lui di andare a fare l'ispezione ma manda il brigadiere il giorno dopo poi una certa leggerezza evidentemente con la quale lì comunque nella centrale di polizia hanno preso questa telefonata poi ecco la mancata collaborazione fra i due corpi delle forze dell'ordine quello dei carabinieri che è dell'esercito è quello della polizia questore commissario brigadiere che abbiamo incontrato sin dall'inizio del nostro incontro poi c'è il procuratore della repubblica si poi arrivano tutti arriva il medico arriva il fotografo il giornalista molti agenti e e poi appunto gli agenti della scientifica il questore e il commissario rigettano la teoria del brigadiere cioè inizialmente eh portano avanti il discorso del del suicidio che sarebbe anche un po' più semplice appunto questa storia l'abbiamo detto non è per niente semplice se fosse stata semplice Giorgio Roccella si sarebbe suicidato e è morta lì diciamo invece proprio tutti questi elementi che abbiamo individuato cioè la pistola che si trova a lato a fianco che è abbastanza lontana per terra la pena sinografica che è chiusa la frase con un punto ma evidentemente incompiuta insomma tutti questi elementi hanno portato il brigadiere a pensarla diversamente e di fatti anche il colonnello dei carabinieri è d'accordo col brigadiere cioè dice anche secondo lui insomma si tratta di omicidio invece che che di suicidio le indagini continuano emergono nuovi indizi si ricostruisce parte della vicenda l'uomo effettivamente era tornato da poco da pochissimo proprio la sera prima poche ore prima appunto della sua morte entrando nella sua villa aveva trovato con sorpresa un telefono che prima della sua partenza non c'era abbiamo detto infatti che questo è l'unico proprietario di questa masseria abbandonata almeno avrebbe dovuto essere abbandonata ma il brigadiere l'abbiamo già detto nel corso della sua ispezione ha già capito ha intuito che invece qualcuno aveva bazzicato già da un po' di tempo quella masseria e qualcuno anche ci aveva messo un telefono che non era stato lui che non era stato il padrone questo tale Giorgio Roccella a questo punto viene interpellato un amico di Giorgio Roccella che è il professor Franzò il professor Franzò è interpretato da Gian Maria Volontè un grandissimo attore che si trova qui a recitare in uno dei suoi ultimi insomma film credo da attore ma che è sempre stato molto attivo con questi con questi registi e anche con questi scrittori e sceneggiatori abbastanza impegnati nella società e nella politica il professor Franzò ci viene un po' in mente il Laurana vi ricordate a ciascuno il suo il professor Laurana era quello che aveva indagato e aveva già intuito anche probabilmente tutte le losche trame che c'erano appunto in una vicenda mafiosa però purtroppo questo insomma non gli aveva giovato molto al professor Laurana mentre invece ricordate che nel giorno della civetta c'era un capitano se non sbaglio il capitano Bellodi di Parma veramente storie amare insomma ripeto vi suggerisco comunque di leggere questi romanzi ripeto non sono romanzi molto lunghi questo qui poi è cortissimo questo della storia semplice viene chiamato quindi è interrogato il professor Carmelo Franzò vecchio amico di Roccella e il professore dice che Roccella l'aveva chiamato dice sono tornato per recuperare delle lettere di Garibaldi e di Pirandello cioè so che in un cassettone di casa mia dovrebbero esserci queste lettere di Garibaldi e queste lettere di Pirandello che avevano scritto a suo nonno al suo bisnonno eccetera poi però gli aveva detto una cosa c'è telefonando il professore aveva detto guarda che mentre stavo cercando queste lettere ho trovato un quadro famoso che era scomparso un po' di tempo prima qualche anno prima e qui ritorniamo alla ispirazione principale di questo romanzo come abbiamo spiegato infatti questo romanzo si ispira ad una storia vera cioè al furto di questo quadro di Caravaggio Caravaggio nel corso delle sue peregrinazioni una volta che era stato accusato di omicidio a Roma era giunto a Napoli era giunto a Malta e anche a Palermo dove aveva fatto alcune delle sue opere straordinarie una di queste opere è stata rubata nel 69 e non se ne sa più nulla ecco che a questo punto c'è il legame diciamo fra la vicenda inventata di una storia semplice e la vicenda reale del furto di questo quadro infatti Roccella dice al telefono al suo amico al professor Franzò ho trovato un quadro famoso che era scomparso l'ho trovato proprio sulla cassa che doveva contenere le lettere di Garibaldi il professor Franzò interpellato dalla polizia spiega questa cosa da questo momento in poi la tesi del suicidio viene scartata definitivamente da tutti anche dal questore e dal procuratore della repubblica che all'inizio invece l'avevano abbracciata questo procuratore della repubblica nel film è interpretato da Gianluca Favilla ecco eccolo qua il fotogramma di Gianluca Favilla che interpreta il procuratore della repubblica anche i questori e i procuratori della repubblica non ci fanno una bella figura perché non hanno avuto quel minimo di acutezza anche il commissario non hanno avuto quel minimo di acutezza del brigadiere di intuire che si trattava di omicidio e non di suicidio quello stesso pomeriggio però il pomeriggio quindi della domenica era accaduto un fatto abbastanza strano un treno locale si era fermato al semaforo che precedeva la stazione di Monte Rosso dopo mezz'ora questo segnale rosso diciamo di semaforo rosso non era ancora cambiato ora provate a immaginare i passeggeri che prendevano questo treno che magari volevano ritornare a casa che volevano insomma sbrigarsi fermi lì per mezz'ora provate a immaginare come si erano innervositi i passeggeri i ferrovieri perché c'era anche il capotreno dentro il treno avevano pensato che il capostazione avesse avuto dei problemi e allora cosa fanno fermano la Volvo di un passante appunto di uno di quelli magari che si trovava anche lui fermo al passaggio a livello e avevano chiesto a questo signore di andare a vedere che fine aveva fatto il capostazione anzi proprio il capotreno che chiede al conducente di questa Volvo di salire fino alla stazione per domandare cosa fosse successo però il semaforo rimane rosso rimane rosso a un certo punto in lontananza si scorge che questa Volvo invece di tornare indietro prosegue attraversa il versante della collina e non torna indietro e intanto il treno è sempre fermo sempre fermo sempre fermo sempre fermo a questo punto ovviamente diciamo che vengono interpellati le forze dell'ordine la polizia i carabinieri vengono vanno nella stazione per cercare di capire che cosa era successo al capo stazione e vedono che il capo stazione e il manovale sono stati uccisi si trovano quindi in una pozza di sangue lì nella stazione di Monte Rosso e uccisi ovviamente si capisce con dei colpi di pistola a questo punto la polizia e i carabinieri ma anche noi stessi magari potremmo sospettare dell'uomo della Volvo se quello della Volvo ha cambiato strada invece di tornare indietro non è riuscito a insomma a svegliare il capo stazione magari perché è andato lui ad ammazzare il macchinista e il capo stazione ma ricordatevi ve l'ho già spiegato questa storia è solo apparentemente semplice e infatti succede che poi questo uomo della Volvo addirittura si presenta a lui spontaneamente in questura per raccontare che cosa ha visto il pomeriggio prima effettivamente lui è arrivato alla stazione un uomo gli ha aperto la porta altri due arrotolavano un qualcosa che a lui sembrava un tappeto e allora di fronte a questa deposizione siccome le forze dell'ordine hanno continuato a insistere a interrogare questo uomo della Volvo e lui non sapeva rispondere non sapeva dire altro allora in base a quel sospetto naturale che poteva avvenire questo uomo della Volvo viene trattenuto una specie di fermo cautelare eccolo qua tra l'altro questo uomo della Volvo è rappresentante di medicinali e questo è il commissario che sta interrogando l'uomo della Volvo come vi stavo spiegando quindi alla fine si decide di trattenerlo cioè si decide il fermo di questo uomo della Volvo poi cosa succede ancora ah sì il procuratore infatti ecco è stato lui procuratore della Repubblica ad avvallare questo fermo di polizia perché ritiene che sia stato proprio lui il rappresentante di medicinali l'uomo con la Volvo ad uccidere in capostazione e il manovale convoca così il suo ex professore Franzò per un interrogatorio ecco c'è un interrogatorio quindi tra il procuratore della Repubblica il magistrato insomma e il professor Franzò che cosa succede durante questo interrogatorio succede che il procuratore della Repubblica si ricorda che il professor Franzò era stato il suo professore e quindi si mette un po' a ridere anche con il professore si ricorda professore quando mi dava sempre tre tre una volta però mi ha dato cinque in un compito di italiano l'italiano ero piuttosto debole in italiano ma come vede poi non è stato poi un gran guaio nel senso caro professore lei mi metteva sempre tre 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 sempre insufficiente al massimo cinque però intanto come vede io sono diventato procuratore della Repubblica eccomi qua come procuratore della Repubblica sapete cosa risponde però il professor Franzò risponde l'italiano non è l'italiano è il ragionare disse il professore con meno italiano lei sarebbe forse ancora più alta in alto la battuta era feroce il magistrato impallidì e passò a un duro interrogatorio ecco qui dobbiamo fermarci un attimo cioè dobbiamo innanzitutto ammirare questa frase di una storia semplice una di quelle frasi di quelle citazioni di Leonardo Sciascia che ci affascinano perché perché dice l'italiano non è l'italiano è il ragionare provate a pensare per me che sono un dirigente scolastico quale valore può avere questa frase cioè di fronte agli studenti di fronte ai docenti cercare di intendere di far capire il valore e l'importanza dell'italiano non in quanto tale non solamente per imparare a parlare o a scrivere correttamente ma perché l'italiano non è l'italiano è il ragionare proprio in questi anni tra l'altro noi stiamo lavorando molto sull'educazione civica ovviamente non solo in italiano ma anche in tutte le altre le materie perché appunto è il ragionare cioè si studia italiano certamente per imparare a leggere e scrivere che è importantissimo per imparare la grammatica cosa è importantissima ma per ragionare con meno italiano lei sarebbe forse ancora più in alto è una battuta veramente feroce perché è come se il professore insinuasse ma se lei ragionasse ancora di meno fosse capace di ragionare magari sarebbe ancora più in alto è quella come dire quel pensiero divergente dicevamo quella critica amara di Leonardo Shash alla società alla politica sempre presente nei suoi libri per cui è come se pensasse qui la gente che è al potere è quella che ragiona di meno e infatti dice il professore con meno italiano lei sarebbe forse ancora più in alto cioè ricoprirebbe delle cariche ancora più importanti che semplice procuratore della repubblica ve l'ho già detto siamo nell'89 proprio nel periodo poco tempo prima insomma Leonardo Shasha aveva fatto quell'articolo criticando Falcone di questi arrivisti questi magistrati che vogliono arrivare in alto che vogliono diventare super procuratori antimafia eccetera perché questa era l'idea di Leonardo Shasha questo ve l'ho già detto però idea non solo discutibile ma anche smentita proprio dalla realtà però ecco era giusto per farvi capire il punto di vista di Leonardo Shasha il magistrato in pallidie passò a un duro interrogatore vuol dire che a questo punto il magistrato visto che prima era abbastanza cordiale era stato abbastanza cordiale col professore anzi si era messo perfino a prenderlo un po' in giro perché gli dava dei voti insufficienti adesso passa un duro interrogatorio perché anche lui non può digerire molto questa battuta così pungente insomma per come si esprimono e ragionano tanti arrivati in alto pare proprio che Shasha abbia centrato il bersaglio cioè nel senso se il procuratore ha reagito così a queste insinuazioni di essere uno che ragiona poco insomma fatte dal professore e lui si è risentito così tanto è perché ha la coda di paglia perché forse è vero che quelli che arrivano in alto poi dopo sono veramente gente che non ragiona ecco poi dopo arrivano anche il figlio e la moglie di Giorgio Roccella cioè della persona uccisa ammazzata e qui ovviamente potrebbe si potrebbe insinuare che siano state loro che sia stata la moglie o che sia stato il figlio ad uccidere appunto Giorgio Roccella e infatti iniziano a litigare fra di loro nel senso che il figlio accusa la madre accusa sua madre e dice ah sei venuta qua per i soldi ma guarda che non ci sono soldi per te la madre è molto anche lei fredda e pungente con il figlio e quindi tutti possono un pochettino a questo punto si arriva alla fine della vicenda del giallo chiamiamolo così e compare un altro personaggio tra l'altro sulla scena che è padre Cricco padre Cricco quando sa di tutta quanta la storia avvala l'idea del suicidio ma abbiamo già detto che ormai tutte le forze dell'ordine hanno capito e intuito che non si tratta di suicidio a questo punto c'è un viaggio in macchina in cui troviamo il brigadiere ecco il brigadiere in un certo senso rappresenta quelle forze di polizia come i capitano Bellodi per esempio del giorno della civetta che vogliono arrivare alla verità abbiamo già visto che era il primo che aveva intuito insomma che si trattava di un omicidio brigadiere leprine e non si trattava di un suicidio a questo punto dicevamo che fa un viaggio insieme col professore i due si trovano in perfetta sintonia fra di loro ritorna a quella frase bellissima che è la più bella frase di questo libro l'italiano non è l'italiano è il ragionare insomma c'è una sorta di insomma di viaggio in cui sono insieme il brigadiere e il e il professor Franzò ecco a questo punto arriva c'è l'ultima perquisizione della villa nel corso di questa perquisizione tra l'altro adesso io vi sto per dire la fine del romanzo siamo arrivati ve lo vedete qua proprio quasi alla fine del romanzo per cui se questo romanzo vi è piaciuto tanto perché effettivamente per come ve l'ho riassunto avrete capito che è un romanzo molto breve che si legge in un pomeriggio e volete leggerlo da soli senza togliervi il gusto della della conclusione allora spegnete adesso e poi magari riascoltate l'ultima parte o rivedete l'ultima parte del video in un altro giorno devo infatti spiegarvi che cosa succede nel corso di questa perquisizione il brigadiere e il commissario salgono in soffitta inizialmente il brigadiere non trova l'interruttore distinto il commissario gli dice che è collocato dietro una statua e qui dietro la statua di Sant'Ignazio a questo punto il brigadiere comincia a sospettare cioè dice ma il commissario aveva mica detto che non conosceva questa villa non conosceva questa masseria adesso invece lui sa dov'è l'interruttore come fa come è fatto a capire che l'interruttore si trovava dietro la statua dal momento che all'inizio non era visibile l'interruttore lui a colpo sicuro dice al brigadiere che il come dire che l'interruttore è dietro la statua è evidente che questa cosa come dire genera un sospetto nel brigadiere cioè il brigadiere sospetta che il commissario sia coinvolto nel caso e che magari sta facendo di tutto per insabbiare il caso e poi si trova anche insieme con il ecco sì insieme con il professor Franzò e discute con lui prendono un tè insieme e leggiamo proprio quello che si dicono ormai verso la fine del romanzo l'interruttore cioè il brigadiere racconta al professor Franzò questo particolare aveva detto di non essere mai stato in quella casa l'ha sentito anche lei si rivolge al professore io avevo consumato un'intera scatola di fiammiferi cercando quell'interruttore gli altri poi erano venuti a cercarlo con le lampadine inattascabili lui invece l'ha trovato subito a colpo sicuro e il professore dice incredibile errore da parte sua cioè il professore è perfettamente dicevamo in sintonia con il brigadiere e gli fa capire che anche secondo lui questa è una sorta quasi di ammissione di colpa da parte del commissario incredibile errore da parte sua ma come ha potuto farlo che cosa gli è accaduto in quel momento evidentemente il commissario era talmente sicuro di sé che aveva indicato subito questo interruttore e sapeva bene dove era nascosto anche se era evidente che solo una persona che conoscesse bene quel luogo poteva sapere dove si trovava quell'interruttore il brigadiere dice forse un fenomeno di improvviso sdoppiamento in quel momento lui è diventato il poliziotto che dava la caccia a se stesso quindi per un attimo ha smesso di ragionare il commissario avrebbe dovuto essere molto più prudente e non far capire a tutti che sapeva benissimo dove era quell'interruttore ma forse l'ha fatto perché adesso era immedesimato nel suo ruolo di commissario e quindi portava avanti le indagini più rapidamente possibile commissario poliziotto che però dava la caccia a se stesso ecco enigmaticamente come parlando tra sé aggiunse Pirandello cioè si tratta di una situazione paradossale e fa venire in mente Pirandello nel senso le opere di Pirandello nelle quali accadono proprio questi giochi tra virgolette di ruolo per cui poi alla fine qualcuno esce in un certo senso da quella che è la ragione e si lascia trasportare da un momento di follia sintetizziamo così bene siamo quindi al giorno seguente il giorno seguente come al solito si trovano nella centrale di polizia il commissario alla sua scrivania e il brigadiere nella scrivania dalla parte opposta della stanza cosa succede ovviamente succede che a un certo punto il commissario prende una pistola e fa finta di pulirla di sistemarla nel frattempo però il brigadiere quando vede il commissario fare queste scene prende anche la sua di pistola cioè apre il suo cassetto il brigadiere e come dire prende in mano la pistola pronto ad usarla nel momento in cui il commissario decidesse di puntarla contro di lui nel senso che è un piccolo gioco quasi una sorta di sfida quasi di duello che si instaura in quell'ufficio di polizia tra il commissario che ha capito riflettendoci stavolta che ha fatto una stupidata nell'indicare subito dove si trovava con l'interruttore facendo capire che lui ecco il punto ecco diciamo lo spoiler che vi faccio la spiegazione che vi faccio lui faceva parte di quella banda di quella cricca che ha rubato il quadro e che ha utilizzato come base d'appoggio proprio la masseria cioè fa parte di quelli che avevano popolato la masseria avevano usato utilizzato la masseria poi lasciato il quadro su una cassa su un mobile insomma di quella masseria convinti che nessuno andasse lì a trovarlo e invece il roccella l'aveva trovato questo quadro a questo punto beh ma non andiamo troppo avanti dobbiamo solo immaginare il duello che si sta realizzando fra il commissario di polizia e il brigadiere e che si risolve in un lampo in una frazione di secondi in un centesimo di secondo quando finalmente il commissario che ha in mano questa pistola che fa finta di sistemare eccetera la punta contro il brigadiere e il brigadiere a questo punto però tira fuori la sua si sente un colpo di pistola e alla fine si scopre che è il commissario di aver avuto la peggio il brigadiere è stato più svelto rapido e soprattutto più preciso di lui l'ha colpito a morte il commissario è morto che cosa succede quindi poi in seguito sempre possiamo dire in prezzo l'ufficio penso però del procuratore della repubblica c'è la ricostruzione a posteriori ecco perché il commissario quel sabato sera aveva detto ma vacci pure domani in questa masseria del roccella a fare l'ispezione non voleva che ci andasse subito perché subito invece c'era andato lui c'era andato proprio il commissario lì in quella masseria e roccella li aveva aperto perché aspettava che arrivasse la polizia senza immaginare minimamente che quel poliziotto sarebbe stato il suo assassino ecco la ricostruzione a posteriori ma la cosa più importante alla fine di questo incontro dove come vedete ci sono il colonnello dei carabinieri qua sull'estrema sinistra poi c'è il brigadiere il brigadiere Lepri è il nostro personaggio positivo insomma poi c'è il questore che abbiamo visto è sempre stato un po' miope e poi soprattutto c'è il procuratore della repubblica ecco che cosa su che cosa sono d'accordo tutti tranne il brigadiere alla fine di questo incontro il magistrato il questore il colonnello sono d'accordo tutti quanti a far sì che questo sia considerato un incidente attenzione questo è fondamentale questo perché perché ci fa capire che cosa come la pensa Shasha cioè Shasha pensa queste forze dell'ordine tra l'altro stavolta riunite e d'accordo anche stavolta polizia e carabinieri le une con le altre cioè il colonnello dei carabinieri d'accordo con questo re hanno deciso di ecco scusate qua c'è un problema non so che che tipo di problema si è verificato hanno deciso si è verificato un errore di qualifica durante lo streaming veramente qua su youtube sta succedendo di tutto tanto per fortuna c'è la registrazione su instagram hanno deciso di di dire alla ai giornalisti che si è trattato di un incidente incidente dice il magistrato cioè il procuratore della repubblica incidente disse il questore incidente disse il colonnello il procuratore della repubblica che dovrebbe essere proprio quello che garantisce la giustizia che accusa i malviventi dice incidente che vuol dire automaticamente che poi su questa vicenda si sarebbe chiuso chiusa la pratica in buona sostanza anche perché ovviamente non faceva onore alla polizia riconoscere che il commissario era coinvolto in una faccenda di furto di quadri e addirittura di assassino omicidio capite e allora sono tutti quanti d'accordo su questo che venga presentato questo come un incidente ed effettivamente poi il giorno seguente cosa c'è scritto sui giornali brigadiere uccide incidentalmente mentre pulisce la pistola il commissario capo della polizia giudiziaria avete capito perché amara questa conclusione ma non siamo arrivati ancora alla vera e propria conclusione del romanzo che cosa succede succede che giustamente viene rilasciato quel venditore di medicinali ricordate quell'uomo della Volvo a un certo punto mentre lui sta uscendo dall'ufficio di polizia intravede diciamo il parroco cioè quella come si chiama padre Cricco che era stato anche lui interrogato che aveva detto che secondo lui era un suicidio ecco a un certo punto si incrociano gli sguardi di questo parroco di questo prete e di questo venditore di medicinali e il prete dice ma lei non è della mia parrocchia e questo venditore questo uomo della Volvo risponde ma che parrocchia io non ho parrocchia anche questa è una frase una parola chiave una frase chiave diciamo così della ideologia di Leonardo Sciascia Leonardo Sciascia si è sempre caratterizzato per questo non aveva parrocchia voleva dire sia abbiamo già spiegato che era un intellettuale anticlericale ma anche che non era disposto ad aderire a nessuna altra parrocchia e per altra parrocchia intenderemo lo Stato i partiti i partiti di massa soprattutto perché aveva questa idea veramente di grande sfiducia nei confronti ad esempio della politica e quindi in un certo senso questo venditore questo rappresentante volevo dire di medicinali anche lui è un alter ego di Leonardo Sciascia nel momento in cui risponde così perché Leonardo Sciascia era uno così era uno che non aveva parrocchia ora però che cosa succede? succede che il romanzo si chiude in questo mondo dai leggiamo almeno insieme proprio l'ultimissimo capitolo appunto stavamo dicendo padre Cricco lo fermò fermò questo tale rappresentante di medicinali disse mi pare di conoscere la lei della mia parrocchia ma che parrocchia io non ho parrocchia disse l'uomo e uscì con gioiosa furia finalmente contento di essere stato lasciato libero rilasciato cioè era finito il fermo di polizia trovò il posteggio con cendolo trovò la sua macchina insomma con una contravvenzione ma gli parve tutta una cosa da riderne era talmente contento di poter essere stato finalmente liberato uscì dalla città cantando ma a un certo punto fermò di colpo la macchina tornò a incupirsi e ad angosciarsi quel prete si disse quel prete l'avrei riconosciuto subito se non fosse stato vestito da prete era il capo stazione o meglio quello che avevo creduto fosse il capo stazione insomma quando lui effettivamente con la Volvo era andato su sollecitazione del capo treno a svegliare il capo stazione insomma ha visto che la porta era chiusa e aveva si era avvicinato a lui un uomo dicendogli insomma di andarsene e di non impicciarsi no quest'uomo in realtà era padre Cricco perché anche padre Cricco faceva parte come commissario di questo gruppo di malviventi che avevano rubato il quadro e poi ucciso ucciso per esempio non solo Giorgio Roccella ma anche ricorderete il capo stazione e il manovale a questo punto lui il rappresentante di medicinali fa 2 più 2 4 cioè capisce riconosce quel volto anche se vestito in un modo completamente diverso da come l'aveva visto e dice caspita cosa faccio pensò di tornare indietro alla questura cioè pensò di testimoniare alla polizia che quel prete in realtà probabilmente era stato fra gli assassini del capo stazione e del manovale visto che non era lui capo stazione come aveva pensato nel momento in cui aveva raggiunto la stazione di monterosso doveva essere stato fra i suoi assassini cioè fra gli assassini del capo stazione e allora quel tappeto che stava rotolando insieme ad un complice in realtà non era un tappeto ma era il quadro il quadro rubato il caravaggio pensò di tornare indietro alla questura a questo punto tutto si sarebbe nuovamente messo in moto si sarebbe messa in moto la polizia le forze dell'ordine perché ricordate che in un certo senso l'assassinio del roccella poteva anche essere stato risolto tra virgolette con la morte del commissario ma l'assassino del capo stazione e del manovale e poi in generale la questione del furto non era stata risolta per niente ma loro avevano insabbiato il procuratore della repubblica e poi anche questore e colonnello dei carabinieri incidente incidente avevano insabbiato la vicenda perché non volevano farci fare una brutta figura alle forze dell'ordine pensò di tornare indietro la questura quel rappresentante aveva intuito tutto ma un momento dopo è che vado di nuovo a cacciarmi in un guaio è più grosso ancora riprese cantando la strada verso casa così termina il romanzo con questo rappresentante che non torna indietro capite ma se ne va via e definitivamente la vicenda è chiusa senza che gli assassini i compici del commissario i ladri del quadro siano minimamente ricercati e il nostro padre Cricco continuerà a mostrarsi a tutti davanti a tutti una persona integerima addirittura il parroco il prete della cittadina ma in realtà è un malvivente e la vicenda è un malvivente e è un malvivente Grazie a tutti